L'immagine pellegrina della Vergine di Fatima in visita alla comunità parrocchiale di Santa Maria Labruga. Fervono i preparativi nell'antica e storica chiesa incontrata Leopardi a Torre del Greco, dove tutto è pronto per accogliere domenica 8 settembre, proprio nella festa liturgica della Natività di Maria, la Sacra Effigie della Madonna, che giungerà sul territorio cittadino in elicottero. Un evento singolare, come spiegato ai nostri microfoni, dal parroco Don Salvatore Accardo, voluto nell'anno della preghiera che di qui a pochi mesi ci traghetterà al grande giubileo del 2025 e che unisce e raccorda motivi teologici e dottrinali della fede cattolica, oltre ad essere un messaggio di speranza per l'intera comunità di Santa Maria Labruna, in festa anche per il ventesimo anniversario di sacerdozio del parroco, il prossimo 12 settembre. Proprio come tu dicevi, stiamo vivendo per volontà di Papa Francesco l'anno della preghiera in preparazione al grande giubileo del 2025 e lui invita tutti i cristiani, tutte le comunità proprio a riscoprire la sinfonia della preghiera. Bello chiedere l'immagine della Madonna Pellegrina di Fatima, visto che il messaggio proprio di Fatima è tutto incentrato sulla preghiera. È un evento di grazia che queste due comunità parrocchiali, Santa Maria Labruna e Preziosissimo Sangue, dall'8 al 22 settembre vivranno. È un momento di grazia unito anche a una seconda occasione. Io il prossimo 12 settembre celebro i miei 20 anni di ordinazione sacerdotale. 20 anni di sacerdozio, 20 anni di testimonianza non soltanto di fede ma anche di servizio alla comunità. Il sacerdozio è, come diceva il grande San Giovanni Paolo II, mondo è dono e mistero. Io mi ritrovo sempre indegno, inadeguato riguardo, rispetto a questo grande dono che il Signore ha fatto a me, come ha fatto anche a tanti miei confratelli. Però nella fragilità e nella debolezza umana io non smetto mai, dopo 20 anni, di dire grazie al Signore perché sono riconoscenti che la mia vita è nelle sue mani. Folto è ricco il programma delle celebrazioni e dei momenti che animeranno i giorni di permanenza della Sacra Vergine. La Madonna arriverà domenica pomeriggio alle ore 17. Ho fatto richiesta alla guardia di finanza che l'immagine della Vergine fosse escortata in elicottero, quindi atterrerà proprio nei pressi della parrocchia Santa Maria la Bruna e da lì poi inizieremo una breve processione per alcune strade della comunità per consentire che tutti possano vedere il passaggio della Vergine. E poi c'è a partire già da lunedì una settimana ricca di preghiera a partire dalle 7 del mattino fino alle 21 e 30 di sera con celebrazioni al mattino e a sera, momenti di adorazione e la cosa bella che ogni sera qui si alterneranno le diverse comunità della città di Torre del Greco. Quindi ringrazio sia le comunità che i parroci che hanno accolto il mio invito ad essere presente ai piedi della Vergine.